Un miliardo di euro per le Olimpiadi è quanto metterà lo Stato per effetto di un emendamento alla legge di bilancio approvato in Senato per preparare l'avvicinamento a Milano-Cortina 2026. Le risorse che arrivano dal fondo pluriennale per gli investimenti saranno investite nello sviluppo infrastrutturale delle aree e sede di attività olimpiche, quindi non solo in Veneto e Lombardia, ma anche in Trentino e in Alto Adige. Nel 2020 saranno stanziati 50 milioni, cifra che salirà a 180 nel 2021. Poi nel quadriagno 2022-2025 si arriverà a 190, solo 10 milioni per il 2026, d'altronde il grande evento arriverà all'inizio dell'anno e precisamente tra il 6 e il 22 febbraio. Intanto, posta la firma per l'avvio della Fondazione Olimpica, prosegue il lavoro promozionale. Da oggi, all'aeroporto di Milano-Malpensa, il video ufficiale del CONI accoglie i passeggeri in transito per il grande hub. Sempre a Milano sorge un dubbio. La cerimonia inaugurale dovrebbe tenersi a San Siro, ma lo stadio sarà ancora a suo posto nel 2026? Milan e Inter vorrebbero demolirlo per costruire una nuova scala del calcio e il futuro del Meazza appare poco chiaro. Un altro tema si lega invece alla giustizia sportiva. A conti fatti, i giochi del 2026 potrebbero segnare il ritorno delle federazioni sportive russe nelle Olimpiadi Invernali dopo lo stop forzato imposto dall'Agenzia Mondiale Antidoping. La sentenza giunta in questi giorni proibisce la partecipazione della Russia alle Olimpiadi estive di Tokyo 2020 e a quelle invernali di Pechino 2022 con gli atleti puliti costretti a gareggiare come singoli senza rappresentare nessuno. Il ritorno sulla neve e sul ghiaccio potrebbe avvenire proprio a Cortina, una meta piuttosto ambita proprio dal pubblico russo.